buongiorno e benvenuti a questa edizione speciale del tg sky 24 purtroppo apriamo subito notiziario con un evento sconvolgente poco prima del tramonto di ieri alle 9 ora locale una fortissima esplosione coinvolto gli uffici del comitato organizzatore dell'olimpiadi a rio l'esplosione è avvenuta subito dopo la chiusura del palazzo e dai primi accertamenti non risulterebbero fortunatamente esservi né morti né feriti scavi e ricerche tuttavia sono ancora in corso ma testimoni hanno dichiarato di aver visto fuggire alcuni uomini poco prima della deflagrazione con in mano una torcia olimpica ascoltiamo la conferenza stampa in diretta del presidente del comitato olimpico thomas bach in questi giorni difficili che il brasile sta affrontando ha sottolineato il presidente del cio thomas bach la fiamma ci ricorda eternamente che siamo tutti parte della stessa umanità la fiamma è un antico simbolo di pace e armonia un simbolo del potere dell'umanità di riunirsi a dispetto delle nostre differenze il presidente si è dunque espresso sulla gravità di questo atto simbolico sentiamo ora l'esperto da ottawa la fiaccola olimpica è il simbolo dell'unione tra le genti senza di essa lo spirito delle olimpiadi non sarà mai più lo stesso queste olimpiadi falliranno se non la recupereremo al più presto la situazione dunque gravissima ci hanno appena informati che lo shield ha preso il controllo delle indagini sentiamo ora l'appello di capitano america che lo ricordiamo è anche il portabandiera della squadra statunitense mi appello a voi tutti questo è davvero un giorno terribile per tutta la terra abbiamo appena saputo che c'è l'idra dietro a questo atto riprovevole evidentemente il loro obiettivo è quello di dividere le genti ma non ci riusciranno ritroveremo il sacro fuoco e li sconfiggeremo atleti e nazioni tutte aiutate me e lo shield a ritrovare la fiaccola insieme vinceremo ciao a tutti sono federica pellegrini campionessa di nuoto e anch'io farò di tutto per ritrovare le fiaccole hi everybody sono alicia glass e ho saputo di questo questa faccenda e sono molto molto triste e voglio che sappiate che avete il mio massimo supporto ciao a tutti sono daniele molteni il campione mondiale di canoa ho saputo che sono sparite le fiaccole chi è stato a farle sparire vi darò una mano a cercarle hi sono michael phelps ed ho appreso la triste notizia dei bracieri mancanti non preoccupatevi ragazzi ce la faremo li ritroveremo insieme voglio si strunze l'idra annaccatata la fiaccola la dobbiamo ritrovare assolutamente conto su di voi facciamo un press ciao sono usa in bolt anche io partecipo alla ricerca delle fiaccole vedrai che con me le troveremo tutte in un battibaleno ciao a tutti sono elisa di francesca campionessa di scherma ho saputo che sono scomparse le fiaccole questa cosa mi ha particolarmente toccata per questo motivo parteciperò con voi alla ricerca ciao a tutti sono cobi brian quest'anno purtroppo saltato la mia amata giocaosta per le olimpiadi il frutto della fiaccola purtroppo non ci voleva però forza ragazzi aiutateci anche voi